salve a tutti illustro la merce che è appena arrivata abbiamo con DHL abbiamo gli odori doganali 24 euro più due sono 26 è arrivato in sette giorni lavorativi e pacco ben imballato adesso procediamo all'apertura a presto Grazie. Questa è la confezione che si presenta per il quale è l'originale. Adesso la procediamo all'apertura. Adesso controlliamo. Togliamo. Abbiamo le due batterie. Sempre macchiate Samsung. Abbiamo la caricabatterie. Sempre Samsung. Abbiamo i libretti. Dei gadget. Una penna. Adesso appena il telefono. Giriamo. Lo apri. Lo apri. Lo apriamo. Mettiamo la batteria. Lo accendiamo. No. 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 Ok. Andiamo a accendere. Andiamo a vedere subito sulle applicazioni. Ok. Andiamo a vedere subito sulle applicazioni. Ok. Andiamo a vedere la posizione con il gratuito. Wi-Fi. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Abbiamo la device Ami Galaxy S4. Modello NABB-GTi9500. Android versione 4.2.2. SD card interna, intorno al spazio 16 gigabit. Modello NABB-GTi9500. Andiamo a vedere GPS. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo ad andare in a vedere. ma potete vedere abbiamo tutte attive abbiamo tutte le applicazioni del come ls4 il gas s4 non gas s4 ma in funzione coreana le voci di attivo per verificare il funzionamento sono tutte attive e funzionanti funziona con questo e c'è anche la funzione visiva poche applicazioni cinesi quasi proprio nulla c'è nella seno una tutta abbastanza veloce non si trova bene Grazie. Ok, poi c'è il smart spin, controllo locale. Grazie. Il telefono si presenta in maniera completa. Guardiamo che sono marchiati Samsung, sono prodotti OEM che sono assemblati. In questa confezione ho una penna di USB 2.0 e un paio di pellicole protettive. Questo è quello che il politore garantisce e spero questo sia sufficiente per procedere con gli acquisti. Grazie. Ok, installato... Installato cpuzeta, si può vedere il modello GT9500, una fattura di Samsung, poi MTK6582, la scheda. Poi abbiamo Android, abbiamo l'architettura RMV 7L, qui possiamo vedere la risoluzione 1080x920, la RAM 1GB è 1860MB, vale 1GB e 8GB, la RAM 508MB, l'interna 8GB, la RAM 7GB e 30GB. Qui possiamo vedere il tipo di cpu, l'architettura, la RAM 5GB, il corso A4, la RAM 8GB, la GPU 12GB, l'architettura, cpuzeta, 4GB, clock speed, velocità, 1,6MHz, la CPU lavora a 16%, qui abbiamo la GPU, PowerVR, Poi possiamo vedere la batteria è a livello di 67, ha lioni di litio, poi abbiamo l'accelerometro. I dati che interessano di più sono quelli di sistema, che come possiamo dire è la manufatturatura, ripeto, del Samsung, e come ho già detto prima sono stati prodotti OM, cioè assemblati, che poi vengono messi per ogni singolo produttore, vengono adoperati per altro. In Europa non sono riconosciuti, come molti dicono, pari ai cloni, queste cose qui, però comunque il telefono si presenta alla pari del Samsung S4, come ho dovuto vedere nei video.